Meine Liebet am nun her. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Vi presento Marco, italiano, romano, trapiantato a Monaco di Baviera, sono in Germania da ormai 5 anni, ed è proprio qui che ho fondato un piccolo Lazio Club, essendo infatti tifoso della Lazio e collaborazione con alcuni amici, ed è proprio questo Lazio Club che mi spinge adesso davanti alla telecamera, che mi spinge a creare un canale su YouTube su cui discutere della Lazio, su cui discutere di calcio in generale. Devo essere sincero, amici e amiche, voglio cavalcare l'onda, voglio un pochino sfruttare quello che è il momento d'oro, è l'epoca d'oro dei social per poter non soltanto promuovere il mio gruppo della Lazio, che nel corso dei prossimi video magari cercherò di spiegare anche un po' più approfonditamente, ma anche per fare quello che fanno in molti, ovvero mettermi qui, come vedete ho strumenti molto spartani, sto registrando con il mio cellulare e una cuffia che uso fondamentalmente per ascoltare la musica quando sono per strada, per raccontare calcio, per raccontare Lazio, per raccontare esperienze e per discutere quelle che sono le partite, quelle che sono il mercato, quello che fanno tantissime adesso è diventata veramente, vorrei dire la moda del momento, ma è una cosa penso scontata, è abbastanza evidente che i social network stanno sostituendo sempre di più lo strumento televisivo, sempre di più la televisione, quindi voglio entrare anch'io in questa televisione e condividere con voi il mio pensiero, confrontarmi in maniera ovviamente sempre civile con tutti quanti, nella speranza che ci sarà qualcuno che mi seguirà prima o poi, non sarà facile, non sarà facile per niente perché da quello che apprendo, da quello che so cercare di avere un po' di successo e per successo non parlo di milioni di follower, ma avere un po' di successo significa per me avere un pubblico che mi segue, avere qualcuno che mi ascolta e che ama confrontarsi con me, che magari darà un senso a tutto quello che sto facendo, portando appuntamenti settimanali o anche più frequenti perché no, facendo delle live e potendo discutere tutti insieme, è una cosa che mi piacerebbe molto ma come dicevo prima so che non sarà facile, per chi comunque avrà voglia di seguirmi, di ascoltarmi e di potersi anche confrontare con me in futuro, dico agevatamente grazie, grazie a tutti e spero che questa avventura che comincia proprio questa sera, sono un po' emozionato, lo devo ammettere, prenderà la piega giusta, prenderà la piega giusta tutti insieme, grazie a tutti voi e ci vediamo presto, non manchiate da Marco del Lazio Club Monaco